Ciao a tutti e a tutti bentornati e benvenuti in un nuovo video. Vi ho chiesto tantissime volte se vi sarebbe potuto interessare vedere questo tipo di video che io ho già fatto, però è un tipo di cosa che io cambio molto spesso ed è appunto come modifico le mie foto su Instagram o comunque in generale come le modifico, le applicazioni che utilizzo, i passaggi che faccio e più o meno i filtri che utilizzo, insomma adesso vedremo un attimo come impostarlo, però in generale questo è. Vi dico subito che io utilizzo principalmente sempre di base per qualsiasi cosa che sia anche una foto dei prodotti soltanto o di un close up due applicazioni che sono Facetune che è a pagamento, però li vale tutti, non ricordo se costava un euro e mezzo, massimo due. Come seconda utilizzo ViscoCam che è un'applicazione totalmente gratuita, che utilizzo più per bilanciare i colori, aggiungere luminosità, raffreddare un po' i colori e aggiungere i filtri, quindi hanno due funzioni completamente diverse. Ve le farò vedere all'opera con una foto base. Detto questo io vi lascio il video, spero tanto vi piaccia, anzi se vi piace ve lo dico subito mettete un bel pollicino in su e noi ci vediamo al prossimo video, spero vi piaccia. Ciao! 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 anche a 2 a volte, anche a 3 insomma dipende, per questo va bene così, poi tonalità pelle io tendo sempre a farla un po' più rosata, quindi scendo vado nella parte del meno e poi eccoci giunti alla parte grana, quello che vi interessa tanto, in questo caso penso di metterne parecchia, quindi arrivo anche a 6 a volte, viene questo effetto super top che adesso va tantissimo e fondamentalmente questi sono i passaggi, poi andate qui sopra a salvarla, vedete questo è il primo, questo è il dopo, però adesso lo scatto e poi qui l'andate a salvare sul rullino, dimensione attuale io lascio sempre così. Altre applicazioni che utilizzo a volte e che mi vengono richieste sono Kira Kira Plus, che è quella praticamente effetto glitteroso che tutti amano, anche questa è a pagamento ma li vale praticamente tutti, vi faccio vedere col mio portachiavi, eccola qua, questo è l'effetto video, però se swipate vedete si cambia, ce ne sono diversi, adesso c'è questo qui nuovo che è by Swarovski, quindi fa tipo wow, però potete fare anche le foto, scattate e la salva direttamente sul rullino, oppure sempre qua che vi può interessare ho Maldive, che è quello per creare i college, voi cliccate qua, almeno io faccio così, qui ci sono tutte le varie schede, ce ne sono davvero di mille e mille tipi, se ad esempio devo fare un prima e dopo, sceglierò questa e poi voi la cliccate, selezionate le foto da mettere all'interno, tipo queste due che ho fatto l'altro giorno, anche qui la cosa bella è che potete regolarla come vi va, ad esempio questo regola, vedete il bordo, io le lascio sempre un pochino così si vede che sono staccate, qui ci sono gli sfondi che potete mettere, e una volta fatto salvate da qui, massima, e lo salva direttamente nel rullino, anche questo è stra mega utile. L'ultimo che vi faccio vedere è Retouch, anche questo è a pagamento, l'ho scoperta da poco in realtà ma è favolosa, vi faccio vedere con questa foto che abbiamo fatto io e Desi l'altro giorno, questa applicazione cosa fa? Rimuove le cose che non vi piacciono nella foto, tipo se vi fate una foto a Piazza del Popolo ad esempio, c'è tanta gente, volete toglierne un po', o fare la foto totalmente da soli perché a volte capita di vederli, ed è praticamente impossibile che non ci sia quasi mai nessuno, utilizzano questa applicazione, quindi vi faccio vedere ad esempio, non mi piace questo vaso qua dietro, vedete? Quindi andiamo a zoomare, qui sotto c'è l'opzione rimozione oggetti, io seleziono questo vaso, e poi clicco su Go, e come vedete me l'ha tolto, così non c'è più l'elemento che mi crea disturbo. Idem, se volete togliere ad esempio questo ramo, fate così e lo toglie, come vedete logicamente un po' la distoglie l'immagine, perché la cosa che ho tolto era attaccata da altre cose, però se è tipo una cosa nel cielo logicamente non diventa così, tipo vedete qui c'è rimasto questo, lo posso togliere tranquillamente, non cambia nulla, per provare a rimettere a posto un po' questa parte, possiamo andare su riparazione rapida e cercare di sistemarlo un pochino, vedete così già sembra un po' più naturale. E anche questa poi una volta fatto, tac, lo andate a salvare come copia, aspettate che si esporta ed è fatta. Quindi queste sono le applicazioni che utilizzo io maggiormente e i procedimenti che faccio, su praticamente il 99% delle foto che mi vedete su Instagram o anche come copertine qua su YouTube, spero tanto vi sia stato utile, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti.